buongiorno buongiorno cari amici e cari amiche del canale buongiorno dal vostro nick juve caos totale amici amiche care caos totale perché in questi ultimi due giorni in particolare tra proteste da parte dei tifosi per il caro biglietti tra una delega di tifosi che sembra abbia manifestato nei confronti della proprietà di alcuni componenti e membri diciamo operativi all'interno dell'alluventus con danneggiamenti o qualche altra cosa di similare capiamo bene che c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va ora come per magia sono usciti tutti i funghetti i funghetti quindi scesni che magari non è molto contento da qui è così capiscono le battute che si facevano ultimamente quando qualcuno diceva forse non parla bene l'italiano l'altro invece diceva potremmo giocare in maniera diversa le battute di quadrato federico chiesa che adesso sembrerebbe essere uscito con il discorso che non si trova bene alla juventus allegri che sembrerebbe abbia avuto adesso oggi in giornata ecco un'offerta molto molto importante dalla squadra quella che adesso è di karim benzema si direbbe sembrerebbe di per un ingaggio di 3 barra 4 volte quello che percepisce adesso la juventus diciamo che c'è un qualcosa di strano c'è un qualcosa di strano questa epurazione da un lato è un'epurazione che sembrerebbe scontata perché giustamente non vogliono più avere a che fare o non giustamente con questo allenatore dall'altro lato sembrerebbe una questione che la società gradisca moltissimo perché visto e considerato che si deve autofinanziare che deve giustamente autosostentarsi visto anche la non partecipazione alla champions league quindi la grossa perdita di una settantina ottantina di milioni di euro ma quasi quasi che il buongiorno non è che fosse magari o che sia un po abbattuto di questa epurazione no magari sai vanno via gli ultimi due pezzi pregiati gli ultimi due con i quali realmente quest'anno puoi fare guadagno visto che una parte l'hai ammortizzata una parte ecco con 60 70 milioni per vlavic andresti a nozze con una quarantina 45 con chiesa idem mi sa che john elkaner non è molto dispiaciuto se questa juventus si sta disfacendo e magari inavvertitamente si sta parlando di giocatori non molto nominati o di grandissimo blasone che giustamente noi lo sappiamo come funziona a un certo punto si arriva a un massimo dopodiché da questo massimo bisogna un attimino scendere e ripartire un'altra volta quindi se all'epoca non ricordo male marotta presentò rinaudo e tra ore ecco se si dovesse verificare un discorso simile scamacca gnonto il ritorno di orsolini o frattesi ecco diciamo che una parola un po chiara e diretta ridimensionamento non è poi tanto distante da quello che vogliono in all'interno della società secondo me è questo il punticino o potrebbe essere ripianare un attimino i conti per poi cedere la società potrebbero anche aver fatto questa valutazione perché noi siamo abituati ad aspettarci di tutto no le montagne russe da noi sono di casa ma per noi tifosi per me in particolar modo non è un problema ci tengo a ricordare a precisare qualcuno l'altra volta nei commenti ha scritto nick pessimismo non pessimismo no io fino all'altro giorno ho messo 20 trofei in bacheca non io personalmente ovviamente quindi il problema non me lo pongo so come funziona ormai all'interno della juventus dal post 2006 ho capito e ho fiutato un attimino come la cosa e chissà che in questa in questo in questa operazione in questo ecco circolare rimbalzare di voci di un certo ridimensionamento di non certa retromarcia un po a livello tecnico tattico che si vuol fare non si voglia portare anche l'allenatore a dire beh se questi sono i presupposti e questi sono i calciatori che mi rimangono e questo è quello che volete che io abbia in mano per lavorarci io con questi non ci lavoro perché non posso portare nessun risultato e magari mi sollevo dall'incarico oppure perché sollevarsi dall'incarico ho sentito anche quest'altra stronzata lo fece lippi negli anni addietro lo fece lippi a quattro mesi dalla scadenza del contratto quando il contratto a fine dei quattro mesi sarebbe stato né con un altro anno né con altri due come allegri o altro quindi a fare i grandi paragoni facciamoli quando hanno un nesso logico non tanto per tirare fronzate o cose che non hanno alcuna attinenza logica lippi era tre o a quattro mesi dalla fine del campionato gli sarebbe scaluto il contratto è andato all'inter cosa che io a me giù non è andata è andata all'inter insieme a peruzzi va bene per poi prendere anche da lì la vacchetta dalle 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 palline fare una figura di merda perché al solito poi forse si pensava che andava lì a far quello che aveva fatto alla juve e sono contento non abbia fatto nulla perché impara anche lui forse gli è servito negli anni da lezione però non si possono fare gli stessi metri di paragono di giudizio detto questo può darsi pure che alla fine poi arrivi un tutor perché solo allenatori così possono andare a prendere una rosa del genere perché si sta prospettando una rosa dove non si capisce se vogliono vendere chiese vlaovic se riescono a vendere solo dusan e mettendo hilling o fagioli in altre trattative in modo da riuscire milic non vogliono riscattarlo per 7 milioni 7 milioni io mi domando per 7 milioni cosa andiamo a comprare in giro comunque ragazzi ne vedremo delle belle questo è sicuro io intanto vi auguro un buon fine settimana stasera ci sarà una partita ma forse qualche mese fa io dissi che l'inter sarebbe andato in finale lo dissi lo dissi sì lo dissi avevo detto corre al madrid ho sbagliato solo un altro 50 per cento so che il gravina potrebbe anche darsi che la pubblicità due fustini al posto di una di uno vada molto molto bene i due fustini sono roma e fiorentina al posto di uno non lo so vediamo stasera che cosa avranno fatto cosa hanno avuto in mente se quello che io pensavo magari si verifica o meno ragazzi un grosso abbraccio continuate a farmi crescere al canale manca poco ai 1100 forse 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 ho bisogno di voi per crescere per aumentare per per diciamo avere un livello accettabile grazie mille un grandissimo abbraccio dal vostro e che ci vediamo al prossimo video ciao